Un gradito ritorno di un evento che ha sempre riscosso grande successo e che trasformerà Piazza Duomo e Piazza Aldomoro, l'intero centro storico, in una grande mostra a mercato. È in arrivo il prossimo weekend, dal 15 al 17 settembre a Crema, il tour itinerante Regioni d'Europa, un mercato degli ambulanti europei che vanta una lunga tradizione. 23 anni ad animare le piazze delle città d'Italia con delizie gastronomiche europee. Dovrà aspettarsi di poter degustare la paella, dovrà aspettarsi di poter degustare l'asado argentino, dovrà aspettarsi tutte le specialità europee, italiane e mondiali. Artigianato, sacer tort, il vero mercato europeo, quello giusto. Un'iniziativa voluta e promossa dal territorio per rendere la città di Crema più attrattiva. I negozianti e i ristoratori cremaschi non patiranno l'arrivo degli ambulanti perché beneficeranno dall'indotto portato. Io sono convinto dell'idea che sia un'opportunità per i commercianti perché questo porta sicuramente persone da fuori Crema, che è sicuramente una città bellissima, interessante, già di suo. Questo è un ulteriore incentivo per portare per turisti, diciamo, anche soltanto della giornata, e quindi è l'opportunità per i nostri commercianti di farsi conoscere ulteriormente oltre a questo mercato. Una sessantina le aziende selezionate che porteranno non solo prodotti tipici gastronomici, anche bigiotteria di qualità e tessuti tradizionali. Sì, abbiamo una piazza dedicata alla vendita, che è Piazza Duomo, intesa come vendita di prodotti gastronomici e d'artigianato appunto di paesi di tutta Europa, e poi ben 20 stand di food in Piazza Moro, per cui con specialità di vari paesi.